Torna in campo il Pescara, sabato inizio ore 17.30 allo stadio Adriatico contro il Monterosi. Ci sarà Facundo Lescano, l'attaccante ha smaltito il problema fisico e giocherà dal primo minuto. In dubbio invece Edoardo Verganica nell'ultimo allenamento ha accusato un fastidio alla schiena, verrà valutato nelle prossime ore. Non dovrebbe essere rischiato Cuppone sulla corsia di destra del tridente offensivo, dubbio Colai, Tupta, mentre a sinistra dovrebbe giocare dal primo minuto De Zogus. In mediana sono in tre in ballottaggio per due maglie Palmiero, Crasia e Giabuà, certo della maglia da titolare Luca Mora. In difesa confermati Brosco e Boben con Ailati, Cancellotti e Milani. Tra i pali ci sarà Plizzari che ha parlato al microfono di Luca Teseo in occasione della cena delle donne biancazzurre. Sì, fin da subito ho sentito il calore dalla gente verso la nostra squadra ed penso che sia la cosa bellissima perché giocare in una squadra, in una città in cui sono così attaccati a una squadra penso sia fantastico. No, diciamo che ognuno ha il proprio percorso e io con felicità e umiltà ho accettato anche perché il direttore e la società mi volevano e mi sono sentito subito voluto dal pescare e quindi penso di aver fatto la scelta migliore per me.